La donna giustamente non ha ceduto alla forza che l'estracomunitario ha esercitato per sottrargli la borsa, da qui poi si è scatenata una reazione violenta del rapinatore che l'ha colpita con calci, con pugni e poi anche con un ombrello che durante l'azione si è addirittura rotto. Una violenta rapina e danni di un'anziana signora. Adesso dopo mesi di indagini la squadra mobile della questura di Arezzo è riuscita ad identificare ed arrestare il responsabile. L'aggressione si era consumata all'inizio dello scorso autunno in centro in via Guadagnoli. Verso le 22 la donna stava rincasando e nel tragitto per arrivare alla macchina fu accreditata alle spalle da un estracomunitario che voleva sottrargli la borsa. Alla resistenza opposta dalla 75enne la reazione è violenta dell'aggressore. E quindi la donna poi ha riportato delle lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Poi la fuga con la borsetta della donna che conteneva 150 euro in contanti ed un telefono cellulare. Nonostante lo shock e i traumi subiti la signora era comunque riuscita a fornire ai poliziotti una curata descrizione dell'aggressore, in particolare su come fosse vestito. È stata molto lucida e ha dato una descrizione molto accurata del soggetto. Poi il telefono che è stato asportato comunque ci ha dato delle tracce perché con l'applicazione proprio specifica che segue poi lo spostamento del telefono siamo riusciti a rintracciare il soggetto attraverso le telecamere della stazione ferroviaria. E quindi incrociando le immagini con le posizioni date dal telefono siamo riusciti a identificare poi la persona. Soprattutto determinante è stata poi l'identificazione su strada operata dagli agenti dei volanti nei giorni seguenti. Adesso è così finito in manette un 21enne di nazionalità nigeriana. Era arrivato da poco, aveva fatto una richiesta di asilo politico e quindi era una persona senza precedenti. Quindi è stata fondamentale l'identificazione poi fatta dagli agenti su strada.